Nome Nome Dito Zaf Età 24 20 Soprannome Segni particolari Uso microfono M**chia che detta così è bruttissima Uso... Vabbè Dove vi siete conosciuti? In chiesa, facciamo i kirichetti assieme Trovi una lampada di eradino Esprimi tre desideri Come sarà Tommasi, i soldi è successo Nooo E per me è uguale Ma vaffanculo copiore di merda Ma vaffanculo Ma nella vita o sei ricco o sei rocco Fai un urlo Quanto deve durare un rapporto sessuale? Cipolla Beh mica tanto, 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 tanto Almeno cinque secondi Mezz'oretta almeno Simula un orgasmo No Non c'è più di curva Aaaaaaah Sei più simpatico tu e più simpatico lui Io ho fatto il mondo Mase un dito nel corno Lui perché parla di prof Qua Fio, grosso tagliato Un tuo pregio? Oh Fio ho visto la tua naga Rido Dai un voto alla tua forma fisica Cazzo di mio Accimicchia Non lo so Magari dieci chili fa era un sette No no, sei e mezzo Ma se sei un lurido zio, se veda quattro Cazzo c'è Quattro e mezzo Il tuo miglior pregio secondo i tuoi amici Sono amici E se non mi vuole E' dura questa eh Ho conosciuto Zoffchick Cosa fai nel tempo libero? Non ho tempo libero Però insomma L'idea ve la potete fare Non vedi l'ora di? Fai un'altra festa Hexagon Tutti insieme Da paura Buuuu Un'altra festa? Buuuu Che canzone preferita? Umberto Tozzi Che li salverei a vita Gigi D'Agostino un giorno Cristo Noi non vai Skrillex No Mima un suonatore di trompa La mamma di Gigi Chi tra i due è più stronzo? Non c'ho visto Chi è il presidente del consiglio? Io Presidente Letta No Ditevi qualcosa Ti voglio bene Ti voglio bene Ti voglio bene Ti voglio bene Anche io ti voglio bene Patatone Di qualcosa a Hexagon Siete voi Siete voi Ciao Hexagon siete voi No io non ci parla Buon giorno No io non ci parla Non ci parla No c'è Grazie a tutti.